Ciao a tutti e benvenuti! Eccoci qua ancora una volta che vi faccio partecipare alla finitura della mia coda. Cosa facciamo oggi? Dipingiamo e creiamo una sfumatura usando dei colori acrilici per quello non mi importavo tanto con i colori della base della mia coda di sirena. Qua su una base di plastica ho i colori bianco con una goccia di colori fucsia per fare un rosa più chiaro, ok? Un pochino di acqua che vado a bagnare il mio pennello per guadagnare dei colori un po' più fluidi, ok? Per quello sto usando il pennello bagnato, essendo che sto lavorando con acrilici ma potete svisarire usando anche il colore a base d'olio. Io non ne avendo uso quello che ho, alla fine il risultato è uguale ragazzi. Potete svisarire e usare i colori più preferiti. Prendo una carta per scaricare il mio colore, ok? Vado a scaricare un pochino sulla carta e qui andiamo a dipingere a casaccio per creare questa nostra sfumatura, ok? Semplice così. Qui sulla base della mia coda ho creato anche dei coralli, ho attaccato due perline, potete attaccare un po' di più. Io non li ho trovati, allora ho attaccato solo due che ho trovato davanti. il risultato è questo della nostra coda di sirena. Faccio tutti e due i lati, davanti e dietro. Una volta vi ho fatto con il rosa, faccio anche sul mio corallo ma potete lasciare solo così nel colore viola, perché qui ho usato l'impasto viola, ok? Abbiamo finito con il rosa, andiamo a lavare un pochino un pennello, lasciare un po' bagnato, scarichiamo un po' l'acqua e prendo il colore violetta, ok? E anche qui dipingo a caso così. Ricordando che sto dipingendo sulla porcellona fredda, che è la pasta di mais, ma se dovesse fare con la pasta di zucchero, una coda di sirena comestibile, userei il colorante comestibile, ok? E creare la stessa tecnica, la stessa fumatura e il risultato alla fine è uguale. Bellissima. La differenza è che con la pasta di zucchero sarebbe comestibile. Di conseguenza dovrei usare dei colori comestibili alimentari, ok? E se non sei ancora iscritto al prossimo canale, iscriviti, lasciate un commento, non dimenticate di lasciare il tuo like, facendo così incentivatemi a continuare ad andare avanti postando nuovi tutorial qua per voi. E questo qua è un tutorial che ci tenevo a farvi vedere il risultato finale, come faccio a dipingere sulla porcellana usando il colore acrilite, o a base d'olio, quello che è. Ricordando che l'oggetto deve essere asciutto per lo meno 24 ore, ragazzi. E alla fine vi faccio vedere il risultato bellissimo che viene con questa sfumatura fatta con acrilite. Prendo ancora un po' di rosa. Volendo potete lasciare il corallo solo nei colori uniformi che avete fatto, la base, qui ho fatto la base violetta, potevo lasciare anche così senza sfumarlo, però voglio tutto sfumato, quindi vado anche sui miei coralli. Pulisco ancora un attimino il mio pennello. scarico un po' l'acqua e vado a prendere i colori celestri, ok? Qui usando il pennello bagnato mi dà la possibilità di rientrare nelle squame della nostra coda, ok? Per quello abbiamo bisogno di un colore abbastanza fluido per riuscire a fare questo lavoro qua usando questa tecnica di pittura. Ragazzi svisarite, prendete i colori che più vi piace, divertitevi nel fare la vostra codina, della vostra sirena. Mi spero vi sia gradito la finitura di questo lavoro in semi, ci tenevo tanto. Guardate qua che bel risultato, bellissima, no? E adesso viene la parte più bella ancora, vi faccio vedere, una magia! Qua ho questa polverina per il cake design, essendo una polverina commestibile uso anche per la pasta di zucchero, ma posso usare anche sulla porcelana, ok? La differenza è che devo fissare poi questa polverina qua. Metto un po' sulla mia coda per fare un effetto lucido, scusate, e vi faccio vedere che bello il risultato! Guardate qua una magia! È venuto un po' di neone, un colore neone, bellissimo! A me è piaciuto un sacco! Toco un po' di eccesso qua. Metto anche dietro un po' di questa polverina, poco poco, alcuni punti luce sulla mia coda di sirena. Magari il suo video non rende giustizia la bellezza di questa cosa, però vi garantisco di persona è magnifica! Ha un risultato perfetto, meraviglioso! Guardate qua! Che meraviglia! Adesso faccio asciugare e poi facciamo la finitura con il vernice trasparente, ok? Per fissare tutto il nostro colore e anche questa polverina luccicante. E guardate qua! Ditemi nei commentari cosa ne pensate, se vi piace oppure no! E questo è il risultato della nostra codina finita! Guardate qua, una pelina grande, una piccola, ma potete svisarire e mettere quanto ne volete! Lasciamo asciugare e poi verniciare! Questi sono colori che ho usato, ok? Bianco con una goccia di fucse per fare rosa, poi c'è il violetta e il celeste. Ma potete divertirvi di fare i colori che preferite! E ditemi se no è bellissima! Ah, mi piace un sacco! Sono innamorata! Guardate qua, che meraviglia! Vi lascio un bacione nel vostro cuore, che Dio vi benedica! E ciao ciao ragazzi, al prossimo tutorial! Ciao!